amici buonasera a tutti finalmente il master è completo il maestro migliaccio ha consegnato siamo qui alla mg record domani si stampa quindi penso che per fine mese fortemente amore è disponibile nei migliori negozi di dischi in tutti i digital store una canzone maessa volermo fare un pezzettino allora voglio fare una premessa su questa canzone io quest'anno in questo disco ho voluto dedicare un brano per tutte quelle ragazze che magari si stanno preparando stanno sistemando si stanno preparando al matrimonio quindi sposa traccia numero uno del disco vai maestro basta un bacio un abbraccio ciao ragazzi fortemente amore a breve